Ciao a tutte e a tutti, io mi chiamo Andrea e sono qui per presentarvi e vi presento questo progetto che stiamo facendo come IPID che si chiama Nocturama Bononia. Come vedete dalle sigle sotto non siamo soli ma siamo riusciti a coinvolgere una serie di istituzioni sul territorio bolognese, tra cui l'Accademia di Belle Arti di Bologna, il Conservatorio Giovan Battista Martini e l'ente di formazione Demetra, in particolare il corso di Game Producer che adesso vi farò, credo che sia la sua quarta edizione partito da poco. Che cos'è Nocturama Bononia? Allora Nocturama è praticamente un contenitore, un'app contenitore di visual novel interattive e immagino che tutti sappiate che cos'è una visual novel, diciamo che nel nostro caso le visual novel sono non di stampo classico, quindi con un'arte prettamente manga anime, molto piatte e così via, ma si avvicinano molto a dei fumetti, anche perché praticamente ogni visual novel ha il suo artista o la sua artista, quindi ogni visual novel avrà una peculiarità grafica diversa e tra l'altro puntiamo a fare delle visual novel abbastanza contenute, abbastanza piccole, quindi a differenza delle visual novel classiche dove ci sono tantissime scelte da prendere, invece per scelta produttiva le nostre sono appunto un one shot, diciamo che ci sono in ogni visual novel dalle due alle tre linee narrative e quando Ivan mi ha chiamato per scrivere le storie mi ha dato solo due paletti e quindi per uno scrittore questa è una situazione meravigliosa, ovvero il primo era che dovevano essere storie ambientate nella Bologna notturna, ovviamente Nocturama è tautologico e poi dovevano essere di genere urban fantasy e il resto ha detto fai tu e quindi praticamente abbiamo pensato di scrivere delle storie che contengono luoghi di Bologna, monumenti, leggende della città e così via ma senza fare un'applicazione turistica, cioè il nostro primo scopo è far sì che il lettore giocatore viva delle belle storie e infatti l'applicazione sarà distribuita gratuitamente in italiano e in inglese sui principali store per il mobile e però appunto sono ambientate a Bologna però questa cosa passa in secondo piano, il nostro primo obiettivo è fare delle storie fighe. L'altra cosa molto bella che siamo riusciti a fare grazie a tutti i soggetti che abbiamo coinvolto è che ogni visual novel ha il suo team di produzione, quindi io le ho scritte ma abbiamo disegnatrici e disegnatori pazzeschi, dopo venite qua perché non mi fate stare da solo e abbiamo delle programmatrici e dei programmatori pazzeschi quindi e venite anche voi ne vedo qualcuno, tra l'altro con la mascherina è difficilissimo riconoscerli tutti, sarà un'impresa. Vi faccio vedere una timeline che abbiamo pensato, le fasi del progetto dovrebbero essere in teoria tre, la fase 1 è la versione alfa entro il 6 settembre in cui noi puntiamo ad avere delle tavole non animate e un montaggio unity provvisorio per vedere se narrativamente se le scelte funzionano senza visual effect, perché un'altra cosa che vogliamo mettere nelle nostre visual novel è appunto quella di non renderle statiche, quindi animazioni, effetti visivi e la fase 2 entro il 30 settembre puntiamo ad avere la versione beta, quindi una revisione delle tavole con il montaggio unity quasi definitivo e la fase 3 è la pubblicazione. Ora la cosa interessante di Nocturama è che anche se ci sarà una pubblicazione di questo contenitore puntiamo a tenerlo aperto, quindi anche in futuro vorremmo che Nocturama fosse continuamente alimentato da visual novel, per il momento io vi mostrerò 8, 7 o 8 che sono quelle che stiamo effettivamente producendo e che sono quelle che saranno poi pubblicate il 30 dicembre, però ecco non è detto che non ce ne possano essere altre, anzi noi ci auguriamo di riuscire ad alimentarlo in continuazione. Dunque questi sono i ruoli diciamo organizzativi, come vedete c'è l'immortale Ivan che fa tutto per Ipid, il nostro referente per Ababo è Otto, Otto Gabos, Simon Luca per il conservatorio di Bologna, poi c'è Massimo De Pasquale che avete già visto credo 3-4 volte dall'inizio della giornata, trova anche il tempo per fare il software di Nocturama, quindi è un factotum, Mariana Murgia e Matteo Caselli che sono i referenti per la musica, Giovanni Zabardi che è il producer e poi ci sono io che appunto sono lo scrittore e il coordinatore del progetto. Allora, che cosa vi posso far vedere? Vi posso far vedere le visual novel, qualcosa, cioè dato che noi le stiamo appunto producendo in questo periodo, con due grossi disclaimer, il primo è che vedrete delle fasi di lavorazione nei disegni, quindi non c'è omogeneità in quello che vi mostro, ma semplicemente perché appunto c'è una coordinazione unica per ogni visual novel ha il suo team, quindi ha la sua velocità. Secondo disclaimer, essendo queste storie insomma si spera belle da leggere, insomma da vivere, io sarò un po' ermetico nella descrizione della trama per non spoilerarvi niente, perché si spera che poi voi scarichiate gratuitamente l'applicazione e la giocate, quindi diciamo vedrete che ogni visual novel ha un titolo e una log line e io vi racconterò qualcosa facendovi vedere qualche immagine. Allora, la prima visual novel è l'unica che non ho scritto io e come al solito c'è di mezzo Ivan, perché lui ha fatto diciamo la prima e ha un altro disclaimer importante, vi dicevo che ogni visual novel ha il suo team, abbiamo anche un musicista, i nomi dei musicisti o delle musiciste, io non ve l'ho potuto mettere perché siamo in fase di selezione, quindi abbiamo recentemente contattato il conservatorio, quindi vedrete un punto interrogativo ogni volta che leggerete musica, però sappiate che ogni visual novel ha un artista che sta lavorando per la musica. Dunque Gargoyle è stata scritta, disegnata, ha fatto anche il design da Ivan e programmata da Marta Rosa, ciao Marta, e la musica va bene l'abbiamo detto, dunque Gargoyle parla di questo uomo che si ritrova in questa via d'Azeglio che è una via importante di Bologna, completamente solitaria, ha una bottiglia in mano, ha bevuto tutta la notte, non vi dico il motivo, lo scoprirete diciamo giocando, e camminando in questa via d'Azeglio notturna trova a un certo punto una contraddizione, che è una contraddizione fisica che c'è a Bologna, cioè c'è un angolo, questi sono stati realizzati da Ivan questi disegni, in cui c'è il bene e il male, se vogliamo definirli così, ovvero la Madonna dei Gerolamini, che è il bene, e la famosa diavolessa di Bologna, il Gargoyle, il male. Lui arriva a toccare questo Gargoyle e vive un'esperienza fuori dallo spazio e dal tempo, e dovrà scegliere, come diceva la logline, se rinascere, diciamo così, come nel bene e nel male, con i due confini che si intersegano molto facilmente. A proposito di ermetismo, vedete che le mie parole sono molto fumose, ma sono volontarie. Poi, Ars Memorie, allora, Ars Memorie è disegnata da Gaia Venturelli, che... Gaia? Non c'è, non la vedo. E c'è però Alessandro, Alessandro Chivoloni che fa la programmazione. Dove è Alessandro? Ciao Alessandro. Ah, io mi ricordo, metto le virgole, mi ricordo le cose parlando. Come vedete il game design, tranne quella di Ivan che è il factotum, quindi fa tutto da solo, in tutte le novel è diviso, quindi non l'ho fatto assolutamente da solo, ma viene fatto dalla disegnatrice o dal disegnatore, dalla programmatrice o dal programmatore e da me. Allora, Ars Memorie parla di questo uomo, questo scrittore, che ha perso l'ispirazione, ha avuto un successo pazzesco con la sua prima opera e poi non è riuscito più a scrivere nulla. E si ritrova, per chi non è di Bologna, nella zona universitaria, in via Zamboni, dove c'è uno degli edifici più belli di Bologna, la biblioteca universitaria, che vi dovete immaginare com'è questo edificio tutto di legno, la sua aula magna, l'aula magna interna, con tutto un camminatoio, questi scaffali enormi, pieni di libri e con delle tavole di legno dove una volta studiavano le studentesse e gli studenti, perché adesso l'aula magna si può solo visitare, è chiusa. Insomma, nell'ultimo tavolo, in fondo, illuminato appena da una luce molto fioca, trova una figura incappucciata che mette un mazzo di tarocchino sul tavolo e lo invita a giocare a un gioco con i tarocchi per fargli capire che cosa ha perso e perché l'ha perso. Infatti la logline è quanto sei disposto a rischiare per una grande storia. Il nostro protagonista rischierà tutto se stesso. Il tarocchino è un gioco tipico di Bologna, anche perché si dice che i tarocchi siano stati, tra le numerose leggende che ci sono sui tarocchi, si dice che siano stati inventati qui vicino. Comunque Gaia ha iniziato proprio dai tarocchi. Abbiamo fatto questa scelta, per i tarocchi abbiamo fuso l'iconografia classica dei tarocchi di Bologna con dei luoghi, dei monumenti, degli oggetti importanti della città. Per esempio, quello è il sole, è il foro da cui entra il raggio di luce nella chiesa di San Petronio e va a illuminare la più lunga meridiana al mondo, che effettivamente è qui a Bologna. Vedete il giudizio? La giustizia, quella si trova in una nicchia di un palazzo che si chiama Palazzo della Mercanzia. Non abbiamo rinunciato né alla simbologia della carta, ma nemmeno, diciamo, a richiamo alla cultura di Bologna. Quella torre che sta andando a pezzi è la torre della Specola, che è l'antico osservatorio astronomico bolognese. Qua vedete il diavolo e il carro, lei è molto brava, Gaia è molto brava, queste sono le mie preferite, il mondo e la stella, sono due oggetti che hanno a che fare con l'astronomia e sono conservati qui a Bologna. Vado avanti. Allora, due solisti, due solisti è disegnata da Greta Folgaria, che non so se c'è, Greta non c'è, non credo, Gennaro Artia, ciao Gennaro, ciao Gennaro che fa la programmazione, e due solisti praticamente una storia ambientata al teatro comunale. Il protagonista è questo pianista, Carlo, che vi faccio vedere disegnato magistralmente da Greta, vedete ogni visual novel ha un'arte diversa, sono tutte diverse. Allora, Carlo è questo pianista esordiente, che però ha fatto già molto parlare di lui, infatti il teatro è pieno di gente, lui inizia a suonare, inizia a suonare in una maniera meravigliosa, però ogni suo accordo corrisponde a un delitto compiuto da un assassino di cui noi non vediamo mai il volto, che ha uno strano legame con Carlo. Ogni volta che Carlo suona, i punti di climax che raggiunge nel suo pezzo corrispondono a un omicidio sempre più efferrato, effettivamente sono due artisti, uno nell'omicidio e l'altro nell'arte della musica. Il giocatore sarà invitato a scoprire quale sia il legame tra i due solisti appunto. Emma, qua credo che ci siamo tutti, scusatemi. Allora, Eva, ciao Eva, Eva Daffara e Marcello, perfetto siete già conosciuti quindi mi risparmiate del lavoro, benissimo. Allora, Emma è questa ragazza di 13 anni, 12 anni, 13 anni, eccola qui, che si ritrova da sola di notte, di notte ormai l'avete capito, in un parco di Bologna molto bello che è il parco di Villangeletti e incontra dei personaggi un po' strani, ma soprattutto man mano che lei si è palesemente persa, cerca di tornare a casa ma è completamente da sola, Villangeletti non è neanche illuminata tanto bene, quindi insomma cerca di farsi strada verso casa e man mano che cammina all'interno della villa trova degli oggetti abbandonati e soprattutto insanguinati, molto inquietanti, molto belli. Questo è l'elefantino che ha fatto, appunto, che ha fatto Eva, si vede, non si vede tantissimo, vabbè, e insomma Emma trova questi oggetti ma continua a camminare e arriva a un certo punto al canale interno della villa, non so se sapete che Bologna una volta, tipo Venezia, in maniera molto inferiore diciamo, era adagiata su dei canali, i canali adesso sono interrati, però ci sono dei punti della città in cui si possono ancora vedere, a Villangeletti c'è un pezzo di un canale che si chiama Canale Navile ed Emma scoprirà a sue spese che cosa si può trovare all'interno del canale e perché quegli oggetti sono insanguinati. Andiamo avanti, Libro Paradiso, anche qui ci dovrebbero essere tutti, ciao Roberta, Simone, Benzi, ciao Simone. Allora, Libro Paradiso, Libro Paradiso è un memoriale, che viene scritto, realmente esistito, che viene scritto in pieno medioevo nel 1270 per liberare i servi e le serve del comune di Bologna, della diocesi, come si diceva una volta, cioè della città. Il libro Paradiso, lì vi ho messo la logline in questo caso e l'intro del libro, parla di un rider che si chiama Red, anche questo disegnato magistralmente da Roberta, che è arrivato da poco tempo in Italia e questo rider all'inizio della storia litiga con la sua compagna perché la compagna vorrebbe che lui non facesse un lavoro così degradante, lui è stanchissimo, non ce la fa più, è stato cazziato più volte dall'azienda, irriconoscibile che Roberta ha inventato e all'inizio della storia non si accorge che c'è quest'uomo che gli deve dare il cibo da consegnare, alla fine lui lo prende e parte per questa consegna. In questo caso il giocatore dovrà decidere se arrivare in orario o in ritardo dall'uomo a cui Red deve effettuare la consegna. C'è un legame con quest'uomo, se il giocatore arriverà in anticipo ma anche se arriverà in ritardo, che svelerà qualcosa di più di questo rider e del collegamento con il libro Paradiso. Dopodiché abbiamo Notte di una sarta, io spero che voi non vogliate andare a mangiare, mi dilungherò solo un altro pochino, allora Notte di una sarta, Davide, non so se c'è Davide Tomazzoni, non credo, Andrea Pellizzardi, grande, che è il mitico programmatore. Allora Notte di una sarta, parla di questa sarta appunto Roberta che ha la bottega in una via che si chiama Via del Luzzo, Roberta è ossessionata soltanto da una cosa, dall'essere dimenticata, ha vinto il più grande premio che si può vincere una sarta, l'ago d'oro e dopodiché è stata stroncata dalla critica e da quel momento ha tagliato tutti i ponti con la sua famiglia, con i suoi amici perché deve recuperare quello che ha perso. Si concede soltanto uno svago che è quello di ogni sera andare all'interno della chiesa, quella si chiama chiesa, sempre per chi non è di Bologna, chiesa di Santo Stefano, dove c'è un bellissimo chiostro e lei va in questo chiostro a pensare, è l'unico svago che si concede, però quella sera, a differenza di altre volte, il chiostro ospita un'altra figura, una figura un po' misteriosa, che propone, non vi dico tanto, a Roberta un patto, un patto che la potrebbe rendere immortale nella sua arte e Roberta scoprirà che quando si ha a che fare con la dimensione divina probabilmente la tua arte può davvero diventare immortale. Io faccio salti, diciamo le doppie capriole per non spoilerarvi nulla. E poi abbiamo il viaggiatore, allora il viaggiatore anche qui credo che ci siano tutti, c'è Giulia, Giulia Colombo che fa appunto l'arte e il design, poi Marco Diliberto, ciao Marco, dopo vi scambierete numeri, chiacchiere e così via, e il viaggiatore è praticamente la storia, è una storia ambientata in un altro luogo particolare, molto particolare di Bologna, l'archiginnasio, la prima sede dell'università, la prima sede storica dell'università, l'archiginnasio di notte è chiuso, non per uno dei due protagonisti della storia, Dasein, Dasein è l'ultimo discendente di un'antichissima accademia che ha raccolto nel tempo degli ingredienti per formare l'ateriaca, l'ateriaca è un antichissimo medicinale con cui questa accademia vuole rivoluzionare il mondo, non vi dico altro, e questi ingredienti sono stati nascosti all'interno dei vari simboli nobiliari dell'archiginnasio, ora una volta non tutti si potevano permettere di studiare, lo potevano fare solo i nobili, il che significa che l'archiginnasio è pieno di questi simboli e questi nobili, tutti appartenenti a questa accademia, hanno nascosto questi ingredienti, ben presto Dasein si accorgerà di non essere solo, perché con lui c'è un ragazzo che lui appella come viaggiatore e che proverà forse a fermarlo, forse, non lo sappiamo, ve lo lascerò scoprire, siamo alle battute finali, allora credo l'ultimo disclaimer, lo spero, queste ultime due storie che vi mostro non hanno ancora l'arte, perché iniziano, le abbiamo recentemente iniziate a elaborare e quindi io per esempio ho sentito il disegnatore di questa, Emanuele, l'ho sentito praticamente molto recentemente, quindi diciamo inizio settimana, quindi non vi farò vedere niente, vi accontenterete un po' di show, un po' di mie parole, allora Requiescat che è disegnata da Emanuele, il programmatore è ancora in forse, quindi ancora non sappiamo chi sarà il programmatore di Requiescat, è una storia che parla di questa Dalia, che si presenta come una quarantenne che caccia i fantasmi almeno da 20 e che riceve all'inizio della storia una lettera scritta a mano e lei è molto sospettosa perché nessuno più la ingaggia con delle lettere, di solito ci sono messaggi e mail e questa lettera chiede il suo aiuto in questa villa che è alle porte di Bologna che si chiama Villa Clara, ora Villa Clara si dice essere infestata dal fantasma di una ragazza e apro e chiudo parentesi, purtroppo per questo motivo è abbandonata a se stessa, è una villa bellissima che in pratica sta cadendo a pezzi, ma questa è un'altra storia e in quel momento Dalia che non è stata mai ingannata da nessun fantasma scoprirà che effettivamente c'è forse un fantasma che la può davvero ingannare e forse questo è il primo smacco della sua, sarà il primo smacco della sua carriera brillantissima. e poi l'ultima, l'ultima un'eccezione perché Federico è l'artista e il programmatore, quindi si richiudono tutti in lui queste qualità, bravo, questa si chiama Kairos e ho scoperto dopo, Ivan mi ha perdonato che il titolo è rubato da un fumetto che è già uscito ma ce la faremo andare bene anche perché è un titolo figo, infatti l'hanno già usato e Kairos parte da un presupposto molto semplice, c'è una dimensione di solo tempo, fatto di tempo ciclico e tempo lineare e si regge su dei pilastri, Bologna è uno di questi, sapete che Bologna è anche detta città del tempo perché ha a che fare molto con la dimensione temporale, per dirvene una il calendario che usiamo oggi, adesso mi trasformo in divulgatore, è stato promulgato da un papa bolognese, però ogni pilastro ha dei guardiani, i guardiani del tempo, in questo caso sono per chi è di Bologna le due aquile di pietra che sono incastonate all'interno della facciata comunale, che si trasformano in due umani perché il tempo a Bologna si sta progressivamente cancellando, c'è la meridiana di San Petronio che sta piano piano andando via come se fosse della sabbia, con gli orologi che si sciolgono e i due guardiani del tempo di Bologna, Proarch e Sige e quindi il giocatore, dovranno scoprire perché sta succedendo questa cosa e soprattutto scopriranno che molto probabilmente c'è una vecchia, diciamo la causa è una vecchia ruggine tra i due. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto perché vabbè, il fatto di averle scritte chi se ne frega, l'importante è che abbiamo delle disegnatrici e dei disegnatori e delle programmatrici e dei programmatori pazzeschi che ci stanno dando una mano, vi invito anche a fare una cosa, se qualcuno di voi volesse aiutarci basta scrivere a IPID abbiamo un gran bisogno appunto di disegnatori e di programmatori quindi io vi lascio con questo invito e vi ringrazio.